Buon compleanno a Federico II, appuntamento annuale nel calendario dell'Ateneo in occasione dell'anniversario della sua fondazione 5 giugno 1224. Nel festeggiare i suoi 792 anni la Federico II ha ribadito la vocazione di istituzione pubblica aperta a tutta la comunità civile e perciò ha promosso una serie di iniziative dal 3 giugno fino al 10 giugno quando in uno dei luoghi più ricchi di memoria del centro storico, la piazza del Gesù, l'Ateneo ha incontrato la sua città per offrire un evento teatrale musicale. Alla città e ai suoi tanti visitatori il 4 giugno l'Ateneo ha aperto i musei delle scienze naturali e fisiche e l'orto botanico e nei giorni 3, 4 e 5 giugno ha accolto i giovani di tutta Italia Napoli per il Fru 16, il festival delle radio universitarie italiane ospitato nel complesso dei Santi Marcellino e Festo. La storia della Federico II è anche e soprattutto la storia dei suoi giovani, di quelle generazioni che da otto secoli si formano nelle sue aule. Un momento solenne nella festa del 10 giugno è stata la premiazione degli alunni meritevoli in corso e quella di alcuni laureati illustri, giovani di altre generazioni.